Nero che partecipa a questo ritiro in Trentino, prima a Ronsone, poi a Pinsolo, è composto da 60 persone. Più della metà fa parte dello staff tecnico ed è davvero un esercito di persone la cui attività quotidiana va regolamentata attraverso orari, attraverso un'organizzazione che deve far funzionare tutto, anche perché ogni spostamento, ogni fase della giornata è determinata da un movimento continuo e deve essere coordinata tra le varie anime di questa società. Ci sono i giocatori, ci sono i medici, ci sono i fisioterapisti, ci sono i colleghi che si occupano della comunicazione, c'è lo staff tecnico, c'è il match analyst, ci sono i tattici, c'è una famiglia intera che deve muoversi. Allora vi diciamo come è organizzata la giornata del Palermo. Si comincia, non c'è un orario di sveglia, c'è però un orario di inizio e di fine della colazione. Dalle 7.15 alle 8.15 c'è l'opportunità di fare colazione. 30 minuti, 15 minuti dopo, quindi alle 8.30, bisogna essere pronti per salire sui pulmini che trasferiscono i giocatori e tutte le persone dello staff rosanero dall'albergo che si trova a fondo al campo, al centro sportivo di Ronzone. Il trasferimento dura 7-8 minuti, i pulmini vanno avanti e indietro, ogni volta che c'è qualcuno pronto sale a bordo, viene portato al campo, poi il pulmino torna e trasferisce tutti gli altri. Bisogna essere pronti poi per l'allenamento che si inizia tra le 9 e le 9.30, a seconda delle indicazioni che ogni giorno, ogni sera precedente, da il tecnico Eugenio Corini che è il grande regista dell'organizzazione giornaliera. Allenamento mattutino che dora da un'ora e un quarto a un'ora e mezza, dipende anche dalle condizioni climatiche. se c'è troppo caldo ovviamente viene ridotta la porzione di allenamento. Il successivo appuntamento, dopo qualche massaggio, qualche passaggio se necessario al fisioterapista, è al mezzogiorno con il pranzo. Solitamente rapidissimo, nel giro di 15-20 minuti, i rosanero hanno già completato il loro pasto. Alle 12.30-12.45 c'è la conferenza stampa che riguarda un tesserato al giorno, poi tutti a riposo ed è necessario riposare. Sono davvero pochi quelli che non riposano perché i carichi di lavoro sono pesanti e quindi è necessario andare a rifiatare, anche perché poi si ricomincia con l'allenamento alle ore 17. in questo caso seduta un po' più lunga perché nel pomeriggio la temperatura è un po' più bassa, poi il successivo passaggio è la cena alle ore 20. Si scherza, si gioca, si scambia qualche battuta, arriva il momento in cui tutti devono tornare in stanza alle 22.30. Non significa che bisogna mettersi a dormire immediatamente, però nessuno può andare a destra, a sinistra, andare a passeggiare per le vie del paese. Bisogna tornare in stanza ed è una cosa che non è neanche necessario spiegare ai calciatori perché a quel punto della giornata sono tutti molto stanchi e non solo, sanno benissimo che l'indomani si ricomincia con la solita routine, due sedute al giorno, la colazione dalle 7.15 alle 8.15. L'albergo è l'hotel Milano, a fondo è quasi interamente dedicato al Palermo, c'è un gruppo che ha praticamente occupato l'intera struttura. Non sappiamo quanto costa un ritiro, ma si tratta di una spesa importante perché c'è non solo da far stare in albergo 60 persone che devono alimentarsi con la pensione completa, ci sono i biglietti aerei, c'è il trasferimento di tutto il materiale. È difficile quantificare la cifra, ma non si tratta né di 10, né di 20, né di 30.000 euro. Una cifra decisamente molto più grande. E questo è solo l'avvio della stagione, la preparazione per quello che è poi il campionato.